Ben trovati, facciamo l'unboxing di tre chitarre Ibanez appena arrivate, sono strumenti entry level che consentono di entrare in un meraviglioso modo nella chitarra elettrica con una cifra relativamente moderna, pur offrendo prestazioni di tutto rilievo. Parliamo di una chitarra da 199 euro e la GRX70 in tre finiture diverse e adesso procediamo all'unboxing della prima chitarra. Eccola, finitura molto bella, è un'evoluzione della Fender Stratocaster nel senso che abbiamo sia gli unbucker che non sono presenti sulla Stratocaster che i single coil, quindi abbiamo una bella varietà di suoni, possiamo passare dal pulito cristallino della Fender utilizzando il pick up centrale a una distorsione molto molto più ricca rispetto alla Fender grazie del doppio unbucker. Una cosa che teniamo a sottolineare è che questa chitarra, come tutte le altre che ci arrivano, viene sottoposta a un settaggio molto molto accurato in maniera tale da dare all'utente finale uno strumento già perfettamente appunto, a differenza di quanto avviene con l'acquisto su internet in cui lo strumento arriva così come esce dalla fabbrica con tutte le imperfezioni che ci possono essere. Questa è la seconda finitura disponibile. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!